una storia di vocazione che vocazione suor qui lo devo dire giuseppina stefani suor giusi suor giusi stefani dovevo dovevo spiegare insomma congregazione delle ancelle della carità benvenuta grazie grazie di essere con noi il suo lavoro è presso l'ospice per malati terminali domus salutis di brescia ancelle della carità che cosa sono che cosa fanno allora le ancelle della carità sono una congregazione che è nata a brescia la nostra fondatrice si chiama santa maria crucifissa di rosa e ci occupiamo soprattutto come scarisma ecco la cura dei malati non solo ma anche la nostra santa ha avuto la lungimiranza di dare avvio a tutte le opere di carità sia per quanto riguarda i bambini le case di riposo le indicazioni qualsiasi persona che si trova nel bisogno lei è riuscita ad accogliere tutti oltre che ad accogliere quella che noi chiamiamo medicina palliativa insomma ciò che serve per lenire il dolore beh possiamo già possiamo attribuirlo anche come attenzione particolare anche questo sì perché il proprio carisma è nato proprio con l'assistenza agli ammalati allora su questo non ci sono dubbi e questa già da sé è il clic e la fotografia di sorgiusi che però non è nata sorgiusi chiaramente anzi era una peste bubonica di bambina questo ho detto io perché ho studiato perché ho letto di lei cose molto vivace bambina molto vivace in una famiglia bella con un papà molto amato sì io sono nata in una famiglia direi molto bella mi sono sempre sentita molto amata mio padre e mia madre erano persone semplici perché erano quei contadini e quindi avevano una campagna però eravamo in due sorelline io e mia sorella e quindi il papà aveva un particolare così disegno su di noi particolare su di me perché ero la prima e lui pensava chissà che cosa che io diventassi per lui ma a dire la verità io sono sempre stata una persona vivace sono sempre stata molto aperta anche con gli altri con tutti ma avevo dentro di me una sensazione di essere disposta ad aiutare sempre gli altri ed era forte questo in me questo bisogno no di dedicarmi a chi questo a questo crediamo assolutamente il suo papà che la invitava in particolare è sempre buffo dire mi scusi se dico buffo ma la invitava ad andare a messa la domenica e lei era un po ma sì insomma però avrei anche altre cose da fare incredibile raccontato oggi quasi non ci si crede ma io dicevo a papà il papà non è che frequentasse molto la chiesa ne andava a messa solamente la pasqua e a natale e allora obbligava noi no andare a messa tutte le domeniche io dicevo ma scusa quando sono diventata adolescente né questa era le mie ribellione no quando ero bambina e mi dice voi dovete andare a messa tutte le domeniche e io un giorno mi sono proprio ribellato no papà io a messa non ci vado per quale motivo tu ecco dici sempre a noi che dobbiamo andare a messa e tu non ci vai allora non vai tu e non ci vado nemmeno io perché non ne ho voglia non si direbbe a giudicare da quello che poi è diventata e non si direbbe questa ragazza giusi ma è stata sempre giusi vero anche a casa giusi giusi e quella vediamo tutta seduta da sirenetta accanto accanto ai fiori lei aveva la sua vita regolare normale aveva un fidanzato aveva insomma procedeva verso altro un meraviglioso altro la fondazione la creazione di una famiglia però era altro rispetto a quel qualcosa e a quella vocazione che arriva quando arriva verso i vent'anni come io ecco avevo il ragazzo però a un certo punto capivo che non stavo bene più con lui e non c'era una libertà io sono andata molto in crisi fortemente in crisi per fortuna che ho trovato un sacerdote che è riuscito ad aiutarmi nella scelta perché non capivo niente ero confusa non riuscivo a trovato questa persona che mi ha aiutato però anche lì mi ribellavo dicevo no non è possibile che io sia fatta per la vita religiosa non è perché mi diceva tu sei fatta per la vita religiosa eccetera e dicevo no non è possibile io non voglio assolutamente però proprio vero che il signore quando ti prende non ti molla non ti molla mai ed ho capito proprio ho proprio sentito questa voce interiore molto forte dentro di me il giorno dell'assunta io andavo a pregare però non mi facevo mai vedere dagli altri perché sapevano vi ero allora andavo sempre di nascosto andavo in chiesa pregavo e quel giorno davanti al quadro della madonna di maria assunta ho percepito una voce molto forte dentro me che mi ha detto tu sei fatta per la vita consacrata e sei fatta anche per questo tipo di congregazione perché lavoravo in ospedale e quindi questa veramente è la tua scelta di vita io sono uscita dalla chiesa che diventavo matta dalla gioia volevo gridarlo a tutti però mi sono contenuta e ho detto ma signore ti ringrazio che mi hai dato la capacità di capire veramente che sei tu che mi scegli e non sono io che voglio magari aderire a dei consigli che mi danno ho capito che veramente sei tu e da lì ecco è partita poi la mia donazione totale al signore che bella persona dopo pochi mesi dopo pochi mesi questo è capitato nell'estate d'estate e l'anno dopo a settembre ho fatto la scelta di entrare e su questo lei è come la prua di una nave rompi ghiaccio se le ha presenti non si fermano davanti a niente a niente ma il ghiaccio intorno cioè la sua famiglia non ghiaccio in quanto fredda è soltanto per rimanere rimanere in punta di metafora cioè i suoi il suo papà le persone intorno a lei come hanno preso questa decisione allora io l'ho detto sulla mamma e mi ricordo era una mattina presto avevamo nel letto insieme e ho detto mamma guarda che io ho lasciato il fidanzato e ho capito che quello non era la mia strada e mi faccio suora e mamma al momento non ha parlato rimasta in silenzio e dopo un po mi dice beh se questa è la tua strada vai pure però c'è papà dobbiamo dirlo a papà io ho detto mamma io non glielo dico a papà perché so che papà si arrabbia no perché so che lui non vuole allora mamma ha parlato con papà l'ha tranquillizzato un po' e poi papà mi ha preso in a tu per tu e mi ha detto bene io non sono d'accordo però sappi che se questa è la tua strada vai pure però non tornare più indietro non è tornata più indietro non è tornata più indietro ha incontrato le ancelle della carità dopo quanto tempo dopo un anno ci sono sono entrato dopo un anno dopo un anno la domus salutis questo per insomma chiunque conosce questa struttura di brescia una struttura nella quale arriva anche chi non è di brescia insomma siete così brave così attente così care ecco l'insegnamento che una una suora di ferro come lei apprende tutti i giorni qual è cosa prendo dal mio lavoro dal mio contatto con i malati allora io lavoro in un ospice ed è il primo ospice in italia quanti siete a lavorare di suore siamo in tre adesso eravamo in cinque qualche anno fa e poi due sono andati in pensione siamo rimasti in tre io un'altra con sorella che è la caposala e poi un'altra che si occupa della pastorale sanitaria io non ero disposta ad affrontare ecco questo tipo di ambiente questo tipo di pazienti perché avevo una formazione geriatrica e venivo da una formazione geriatrica e quindi ero a contatto sempre con gli anziani che per me gli anziani ecco sono persone molto care che amo molto e mi sono trovata in questo ambiente anche a contatto con la realtà dei giovani ecco giovani noi sappiamo che nell'ospice vengono soprattutto pazienti che hanno una tumore la patologia oncologica e quindi dobbiamo devono affrontare tutti i giorni ecco questa realtà con la sofferenza il dolore e la morte io i primi anni ho fatto molta fatica e lo dico sempre ho avuto tante ribellioni interiori però capivo che per me l'umanità sofferente era quella che mi dava tanta gioia nel cuore era quella che mi dava la capacità di andare avanti anche se ho sempre direi tutte le sere perché anche durante il giorno tante volte invocavo il signore perché da solo non ce la fai anche se tu lavori in equipe anche se sei sostenuta dalle varie figure però ecco ti prende molto e quindi il contatto con questa realtà dolore sofferenza e morte direi che ha cambiato la mia vita in che senso nel senso che mi ha portato ecco a cogliere quello che è l'essenziale noi ci fermiamo in tante cose diamo valore a tante cose a volte anche tante cose inutili no quando invece ti accorgi che la vita ecco è un qualcosa d'altro ed è un qualcosa di molto forte di molto vero e che lo possediamo dentro di noi perché il dolore la sofferenza e morte ognuno di noi la vive nella sua vita anche quotidiana perché io direi io dico sempre moriamo tutti i giorni noi non ci accorgiamo ma noi moriamo tutti i giorni una parte di noi perché la persona è costituita da più dimensioni ed è quello che se queste dimensioni sono in sintonia tra di loro creano armonia nella persona basta che ce ne sia una che sta male tra virgolette ad esempio da un punto di vista sia psicologico sia spirituale che condiziona chiaramente sia biologico e condiziona tutte appunto le altre ecco invece in questo ambiente io sono riuscita veramente ad arrivare a quello che è l'essenziale e anche da un punto di vista mio personale religioso tante volte purtroppo perdo la messa non faccio la meditazione ma non perché non voglio ma perché sono presa da questa umanità sofferente che mi trovo tra le mani però faccio certe riflessioni molto profonde dico questo letto dove si sta consumando un sacrificio ed è una persona che sta morendo ecco per me mi rappresenta veramente la morte di cristo e quindi ci penso tanto a volte mi rabbio anche col signore sai perché dico cavoli tu hai sofferto tre giorni sulla croce questa persona è già una settimana due settimane tre settimane va bene che è gestita con la terapia e quindi è controllata con i sintomi però quanta sofferenza dentro di sé raramente mi capita di stare così zitta di fronte a un ospite con lei creda non ci sono domande da fare solo un grazie da dirle grazie di essere stata con noi ha detto tutto lei da un certo momento in poi ha detto ed era giusto tutto suor giusi stevanini grazie di essere stata in nostra compagnia grazie l'ora solare torna domani alle ore 14 la recita della coroncina la divina misericordia come sempre tutti i giorni noi vi aspettiamo domani domani meditando molto su questo grazie ciao 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 ciao